a radio 2 punti oggi parliamo di biciclette ma non solo perché ci spostiamo un po dall'ambito urbano quindi non biciclette solamente a padova ma anche per campi direi in questo caso in generale biciclette all'avventura perché vi presentiamo un festival molto bello che c'è qui in zona si chiama bam bicycle adventure meeting e ce lo racconta l'organizzatrice e l'ideatrice leonora buiatti che è venuta a trovarci ciao leonora benvenuta allora intanto il nome è uno dei più esplosivi che abbia mai sentito e sono sicuro che l'avete fatto apposta proprio per questa roba dell'avventura dell'esplosività no c'entra qualcosa certo lunghissimi ore ore di riunioni per raggiungere questo obiettivo però devo dire che nel nome bam c'è qualcosa del suo destino perché il festival è iniziato l'anno scorso con una prima edizione a Livigno che era una piccola edizione all'interno di un altro festival quindi così come uno degli eventi del festival e poi effettivamente è esploso e quindi è diventato una cosa a sé stante nel senso che quest'anno non è più all'interno non è più all'interno degli adventure awards ma prende vita propria e arrivano annuale il 6 7 8 maggio biciclette non solo in città ma anche in campi e in camporella no in campi poi guarda ognuno la declina come gli diamo disponibilità poi loro decidono ogni partecipante vedrà ma la scelta del nome scusa se ci torna a me è piaciuta tantissimo ma è successa quella roba no che fai le riunioni 10 o chiamiamolo bam ragazzi e l'ultimo nome buono è diventata la scintilla oppure no allora la speranza che esplodesse probabilmente era nel cuore di tutti noi però non era quello il brief iniziale ovviamente è un acronimo quindi bicycle adventure meeting che poi in sé sta diventando anche european bicycle adventure meeting perché abbiamo visto che arriva gente un po anche da oltre alpe dalla spagna dalla germania dalla austria hanno tutta una dimensione internazionale soprattutto per la parte che riguarda il cicloturismo e le esperienze che poi porterete anche al meeting però prima di parlare del programma vero e proprio volevo che ci raccontassi un po la filosofia del festival perché oltre ad essere un incontro di appassionati di bicicletta di meccanici di pedalatori più o meno folli ci avete costruito o a questo punto è emersa uno uno stile di vita proprio direi no diciamo che lo stile di vita è proprio il cuore della manifestazione e l'idea è quella di dare un luogo e un modo di ritrovarsi a persone che hanno un sentir comune che spesso trova come massimo comune denominatore proprio la bicicletta ma non necessariamente perché la bicicletta è chi vive la bicicletta chi usa la bicicletta anche in città di solito ha uno spirito simile il ciclo viaggiatore è un soggetto che non trova grandissimi luoghi in cui confrontarsi con altri soggetti come lui e questa è stata la prima spinta però l'idea è quella di un turismo slow quella di un turismo anche economico anche di uno spostarsi dal lavoro a casa il commuting no quelli che si quelli che si vestono a cipolla come si diceva una volta cipolla funziona sempre ci piace anche soffriggerla un pochino poi c'è una parte culinaria che che ci racconterai perché so che c'è una pedalata pensata proprio per le buone forchette oltre che per i buoni pedalatori a segnalare il fatto che è un festival aperto a tutti quindi non è che questa filosofia è preclusa o è solo per smanettoni della bicicletta bravissimo proprio questo il punto non è per smanettoni della bicicletta ma per chi vive la vita in un certo modo e vedo qui una scritta bisognerebbe tentare di essere felici se non altro per dare il buon esempio ecco un po questa cosa qui forse pedalando può funzionare senti questa filosofia secondo te è in qualche maniera adatta anche al mondo dell'università potrebbe incastrarsi beh ci mancherebbe cioè se non si cerca di essere felici quando si fa l'università e si sta costruendo il proprio futuro sulla base di una propria passione quando si può esserlo a me piaciuto soprattutto per chi sta facendo degli altri esami questa è una filosofia che può essere interessante applicare che i momenti di studio e poi secondo me ecco il mondo degli studenti e il mondo dell'avventura magari combaciano poi al bam si potrà campeggiare si potrà mettersi lì un po la bella e meglio e tante volte gli studenti vivono questo periodo della vita proprio in questa maniera qui ma infatti siamo noi che ormai studenti non siamo più che vogliamo tornare ad essere studenti accampandoci muovendoci in bicicletta c'è la nostra aspirazione è diventare come voi quindi insomma venite a darci il buon esempio potrebbe essere una bellissima idea anche perché la location di cui dicevamo prima la rocca di noale dove si potrà campeggiare è un'avventura in senso che non siamo è la prima volta che si può dormire lì se non sbaglio hai studiato molto bene ho sentito il sindaco che era era contentissimo ma mangiano le mura saremo tutti molto educati attenti perché la rocca comunque monumento antico e va rispettato ma io sono convinta che chi viene chi sente questo spirito non si metterà a fare a usare lo spray sui mure le mura della rocca quindi sono veramente serena all'interno della rocca antica quindi delle antiche mura c'è un'area verde in cui per la prima volta si potrà campeggiare in effetti basta venire con la tenda prenotare la propria piazzola si dorme lì e e così è una curiosità che potrebbe essere interessante prima ci dormivano soli morti perché era un cimitero quindi adesso si torna alla vita e poi c'è anche questo gusto un po zombie trash che potrebbe piacere potrebbe essere messo in qualche curriculum avventuroso specie delle persone che verranno naturalmente il programma adesso magari lo linkeremo di sicuro è veramente dettagliato ci sono un sacco di cose io ne ho scelte alcune che magari volevo che ci raccontassi c'è questo yoga for bikers per esempio sì che allora si faccia con il pianto no no è una yoga normale solo che è studiato per chi sta per partire in bicicletta e per chi torna da una lunga pedalata quindi si concentra sul rilassamento il potenzialmente di alcune fasce muscolari e chi ha pedalato tanto ma aria presente cosa sono quelle articolazioni anche alcune zone del corpo direi così che sono particolarmente sottoporti a stress e quindi magari come sapete lo yoga per lo yoga è molto importante lo scaricamento a terra e se ci pensi quando va in bici invece i piedi sono sempre sollevati tu non tocchi terra e quindi gioca molto anche su questa cosa l'energia che passa dalla ruota al piede tu lo farai farai yoga for bikers oppure sei diciamo vai devo fare le foto ragazzi mi dispiace no 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 io in quei giorni penso che dovrò scaricare un sacco di scatoloni risolvere un sacco di problemi però se riesco a ritagliarmi quell'oretta per non pensare a niente magari ti piacerebbe sì la dimensione internazionale dicevamo prima un'altra cosa bella del festival è che ci sono tanti ospiti che verranno a raccontare i loro viaggi che oltre a essere belli da vedere spesso sono insomma inspirational direi yes allora sono persone che non hanno palcoscenici in italia veramente non ne hanno e hanno delle storie da raccontare meravigliose adesso piano piano vedo che un po la tv un po la radio insomma stanno iniziando a interessarsi a questi soggetti che fanno delle scelte particolari di vita perché c'è quello che molla tutto e va in bicicletta per tre anni a fare il giro del mondo c'è quello che viaggi in solitudine c'è quello che viaggia con la famiglia c'è anche quello che ogni giorno dopo avere appoggiato la penna sulla scrivania del suo ufficio va a farsi un allenamento in bicicletta o ritrova un contatto con la natura va nei boschi sono delle tendenze tendenze pare brutto perché sa di moda però insomma sono delle attività che vedo che hanno sempre più riscontro e quindi io parlando con la gente mi sono resa conto di quante persone vorrebbero provare a fare qualcosa del genere ma non conoscono nessuno che lo fa non sanno come fare quindi qui si instaura l'inspirational che c'è in voi quindi ragazzi ma sì che si può fare anche se fai autore di ufficio prendi una bici ti fai il tuo giro da un lato sogno il mio supereroe che ha mollato tutto e ha fatto il viaggio in patagonia e dall'altro lato invece vado a pedalare con qualcuno che è bello che ci sia questa dimensione normale no della pedalata che non sia solo il ciclista super attrezzato e con tutto il kit che insomma siamo molto sgancherati e questo agli studenti piacerà molto credo perché magari qualcuno può venire anche con una bicicletta diciamo non proprio super tecnica no no la bicicletta super tecnica non è necessaria ed anzi come giusto diciamolo diciamolo ragazzi non siamo dei nostri questi del festival non sono dei fissati per forza biammortizzate no 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 anzi lontanissimi dallo spirito della gara della performance come dicevamo noi si poteva davvero pensare di invitare tutti gli studenti a venire al bam con le biciclette più sgangherate che hanno e poi vince non chi arriva prima ma chi arriva per la felicità dei meccanici e degli espositori che saranno lì e poi si troveranno a cambiare camera d'aria un'altra cosa bella che fate è quella di tentare di raccontare storie di bici normali e che raccogliete prima però ci saranno dei reading sì questa è una cosa che facciamo anche un po noi in radio magari potrebbe essere interessante per gli studenti se qualcuno vuole partecipare come no allora usando questo inglese visto che siamo european c'è il lo speech contest cioè un momento in cui noi scegliamo dieci delle storie che ci sono arrivate di bicicletta che se volete potete mandare alla nostra mail bam chiocciola bam europeo punto it massimo 2000 battute ci raccontate il vostro viaggio in bicicletta i dieci più belli verranno sul nostro palcoscenico in sette minuti racconteranno questo viaggio e i due più belli più interessanti più affascinanti più emozionanti vinceranno un premio del nostro spazio ok quindi è anche una bella c'è un po di spirito competitivo qui dai ci sta un po di pepe dai sì così perché uno non è che deve scrivere chissà cosa però ma anche se se l'inventa chi ne sappiamo noi vogliamo le foto un'altra cosa interessante è che interessa anche un po noi al mondo della radio la parte musicale sono i concerti cioè ulisse schiavo sono venerdì sera che è venuto anche qui da noi ma sabato stasera ce n'è uno ancora diciamo un po più particolare non come stile di musica ma proprio per come viene suonato o alimentato insomma l'amplificatore il venerdì sera avremo uno spettacolo della micro orchestra e sono dei anche in questo caso musicisti in bicicletta a seguire il concerto di ulisse schiavo come hai detto tu che ha veramente un musicista straordinario secondo noi farà bam anche lui molto molto presto ok e invece la sera dopo il sabato il concerto della repubblica delle biciclette quindi come giustamente dicevi tu pedalatori che se smettono di pedalare fanno crollare il gruppo elettrogeno e tutte le luci si spegneranno quindi vogliamo metterli alla prova e vogliamo sentirli cantare suonare mentre pedalano mamma mia loro immagino che ne avranno di storia da raccontare sui concerti che hanno fatto e su quanti chi hanno perso perché poi il concerto durerà un tot quindi pedaleranno abbastanza per logisticamente diciamo per andare c'è una pedalata comune che si fa da padova in questo caso visto che siamo qui in zona alle sette e mezza mi pare venerdì sera ci si trova si parte esattamente trovate tutte le informazioni sul sito si parte da padova da treviso da vicenza qualcuno parte da milano da bergamo poi ci sono anche da venezia ci sono delle pedalate spontanee e si parte alle sette e mezza si arrivano alle tutti insieme e poi si mangia lì ci sono delle birette ci sono degli stuzzichini e dei corroboranti per la pedalata e poi sono le pedalate insomma trovate un sacco di roba se magna si pedala si incontrano persone e credo proprio ci starà bene speriamo di sì ecco speriamo che ci sia anche bel tempo si sarà sicuramente se no ragazzi mantelline si pedala lo stesso bravo 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 no per pedalare si pedala lo stesso su quello non ci sono dubbi pedalatori non si fermano certo la mattina se piove si mette la mantellina si va a lavorare lo stesso con la bici va bene allora grazie mille leonora che ci ha raccontato bam il sito è www.bam europe.it c'è la pagina facebook c'è tutto quindi vi aspettiamo il 6 7 e 8 maggio annuale in una location fantastica grande grazie ciao a tutti ciao